Sanità un passo avanti e spesso purtroppo anche un passo indietro, ma iniziamo dalle novità, quelle relative al 2024, perché entrerà in vigore il primo gennaio il nuovo tariffario delle prestazioni erogate dall'azienda sanitaria provinciale. Il nuovo tariffario include le prestazioni che rappresentano il riflesso dell'evoluzione tecnologica della diagnostica degli ultimi anni. Di contro elimina quelle ormai obsolete. Vengono introdotte numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che precedentemente avevano carattere quasi sperimentale oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica clinica corrente. Attenzione però ai pazienti che hanno effettuato una prenotazione entro il 31 dicembre del 2023, anche se la prestazione verrà erogata poi nell'anno successivo, verrà applicato il vecchio tariffario, mentre per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2024 verrà considerato il nuovo tariffario. Inoltre ormai non ci spaventa più sentir parlare di CUP. Il servizio online del CUP Regione Calabria consente ai cittadini di prenotare visite specialistiche e prenotazioni di diagnostica strumentale presso gli enti del servizio sanitario regionale, come attraverso il portale web naturalmente e l'applicazione mobile disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile effettuare così prenotazioni se in possesso di una ricetta dematerializzata o una ricetta rossa. Ma non finisce qui, c'è anche quella burocrazia che rende impossibile curarsi, ed è la storia di nonno Francesco tra i tanti, ovvero di chi non può curarsi perché rimane senza piano terapeutico e nessuno lo può compilare, colpa di una legge regionale che vieta gli specialisti ambulatoriali e territoriali di poterlo fare. Secondo le nuove indicazioni, infatti, per poterlo fare bisogna recarsi presso gli specialisti dell'ospedale. La storia di nonno Francesco, dunque, che ha 90 anni ed è complicata perché è ricoverato in una casa di riposo e per legge i medici dell'ospedale non possono spostarsi per visitarlo, lo vede quindi fermo senza piano terapeutico. Andrebbe trasportato con un'ambulanza privata, ma lui non è trasportabile. Di contro arrivano belle notizie perché anche se una serie di intoppi burocratici fa slittare la data inizialmente prevista per la fine del 2023 dell'arrivo dei nuovi medici cubani, ben 130 sono pronti ad arrivare in Italia e praticamente in 45 resteranno in provincia di Cosenza. Si tratta della terza brigata cubana che contribuisce ad elevare il margine operativo dei nostri ospedali. Non solo brutte notizie, dunque, quando si parla di camici bianchi, come testimonia anche Francesco Sorgiovanni su Gazzetta del Sud, riportando l'assistenza impeccabile ricevuta a causa di un malore da una donna veronese, come riferito dal coniuge della stessa che racconta l'esperienza presso l'ospedale di Locri. Una storia natalizia che ha avuto un lieto fine, come fanno sapere anche i familiari della stessa 73enne veronese, auspicando che episodi di buona sanità, come quella da loro vissuta in prima persona, siano la regola e non l'eccezione in un contesto sanitario pubblico dove, purtroppo, non sono rari episodi di segno diverso.